Il 2024 è un anno che potrebbe riscrivere completamente la storia di Bitcoin perché ci sono tanti spunti di analisi fondamentale che riguardano appunto l'anno 2024 che il mercato tra l'altro sembra già scontare con questa fase rialzista che non si ferma al momento da novembre del 2022. Bitcoin che segna probabilmente il punto d'arrivo verso miglior asset del suo genere ovviamente nell'anno 2023 ancora una volta anche rispetto agli indici di borsa, agli altri asset dei mercati finanziari classici ma il 2024 ha tante sfide per Bitcoin davanti. Quindi primo la sfida degli ETF approvazione ufficiale questa volta sì o no, poi la sfida dell'albing di Bitcoin quindi il taglio dell'offerta e quindi il dimezzamento dei Bitcoin offerti ogni blocco trovato e poi l'eventuale arrivo di questa fase di bull run nuova che tutti si aspettano perché ciclicamente collegate alle bull run precedente. Tutti questi cambiamenti nel 2024 stanno già iniziando a lasciare dei segni un po' come pollicino con le briciole di pane. C'è qualcosa che il mercato ci sta dicendo? Maxi analisi su grafici di ogni tipo che vedremo oggi ragazzi dove andremo a cercare di fare chiarezza e di vedere le molliche di pane che il mercato ci sta lasciando in questo super mega video di analisi fondamentale di lungo periodo per Bitcoin 2024. Mi raccomando allora, bene ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video che non l'avevo detto, ovviamente lasciatemi i pollicioni e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e noi partiamo subito a guardare il primo grafico importante che ho in serbo per voi in questo video. Le ultime settimane soprattutto hanno lasciato un po' di segni per quanto riguarda l'atteggiamento diverso dei mercati finanziari un po' decorrelato. Un mercato cripto da una parte, mercati delle commodity dall'altra, mercati obbligazionali da un'altra parte e mercati finanziari, quindi indici di borsa globale, SP500, Nasdaq100, da un'altra parte ancora. Tutti questi meccanismi sono cambiati. In prima analisi ragazzi, questo grafico che è stato pubblicato recentemente dalla Banca Centrale Giapponese indicava un ritorno a larga scala di quelli che sono i volumi e i introiti di liquidità verso le obbligazioni a lungo termine americane. Allora, questa cosa qui è molto significativa ragazzi, si può vedere perché il fund flow long term è aumentato tantissimo, molto di più della media mobile a 4 settimane rispetto ai mesi precedenti. Già comunque si vedeva un flusso nei mesi scorsi ma adesso stanno raggiungendo vette più alte. Perché questa cosa? Ovviamente una rondine non fa primavera, però perché questa cosa ragazzi? Perché i tassi di rendimento dei titoli di Stato americani lunga scadenza hanno raggiunto tassi, hanno raggiunto livelli molto elevati. Vi faccio vedere questo grafico e ve lo spiegano in questo video perché dobbiamo imparare a convivere con questo grafico nei prossimi mesi perché questo grafico sarà il nostro indicatore di quella che sarà la politica monetaria della banca centrale americana che impatterà di conseguenza su tutti i mercati crypto bitcoin compreso a prescindere dagli eventi esogeni che riguardano bitcoin appunto di cui abbiamo parlato prima, ETF, halving eccetera. Questo è il grafico del rendimento del ventennale americano che come vedete ha un trend mostruosamente rialzista perché è legato al rialzo dei tassi di interesse. Ora i rendimenti sono intorno al 5% dopo aver toccato dei livelli di massimo del 5,38%, quasi 5,50%. Questo perché ragazzi ci dà una indicazione del fatto che quello che fanno gli istituzionali relativi alle obbligazioni è prendere una decisione in base ad analisi macroeconomiche importanti cioè quello che sono tutte le analisi messe insieme che poi danno un giudizio definitivo per gli istituzionali che muovono miliardi, billion in questo caso, verso le obbligazioni perché il semaforo gli scatta e diventa verde. Cosa analizzano principalmente? Analizzano le possibili ripercussioni del rialzo dei tassi della Federal Reserve sull'economia, analizzano quello che possono essere le prospettive di successivi rialzi dei tassi di interesse quindi continuazione della politica restrittiva e analizzano il mercato anche nel complesso in termini di rischio credito e quindi la rischiosità che magari l'ente in questione quindi lo Stato americano possa non ripagare il debito o addirittura fare un taglio sui debiti eccetera. Allora queste analisi poi scaturiscono in una scelta molto definita che dura da anni ragazzi. Negli ultimi dieci e passa anni con la questione dei tassi zero dove noi avevamo per anni e anni e anni tassi zero questa dicotomia si era fermata però adesso probabilmente riprenderà e cioè come funziona ragazzi? Quando i tassi di interesse e delle obbligazioni sono molto alte c'è una affluenza a un certo punto di capitali all'interno di questo mercato che causano di conseguenza l'abbassamento del tasso e del rendimento dei titoli a lungo termine e dall'altro tassello una fuoriuscita dai mercati azionari dalla liquidità come per esempio NQ100 quindi Nasdaq 100 oppure Standard & Poor's 500. Perché una fuoriuscita? Perché tendenzialmente quando gli operatori istituzionali si aspettano che i mercati delle obbligazioni tassi di interesse vadano verso un periodo di stabilità barra e riduzione si aspettano anche che di conseguenza l'economia nei successivi 6-8 mesi vada o in una recessione leggera o comunque rallenti in maniera vistosa. Ciò significa che i rendimenti proposti dal mercato azionario dovrebbero essere negativi rispetto a quelli proposti dal mercato obbligazionario quindi avviene uno switch, ci si sposta da quelli che è il mercato azionario vendendo e quindi spostando una parte di quel capitale verso le obbligazioni quindi abbiamo una differenza. Obbligazioni che vedono aumentare i flussi e i volumi titoli azionari che iniziano il declino e non crollano ragazzi però inizia una fuoriuscita di liquidità che durerà magari N mesi, di solito 3-4 mesi avviene questo processo una cosa del genere può essere iniziata proprio in questi ultimi periodi perché ragazzi abbiamo visto questo grafico che mostra un inflow record nei long term treasury americani che sono proprio quelli che vi sto facendo vedere qui quindi il ventennale per esempio è un long term anche il decennale e da un certo punto di vista abbiamo anche assistito a quella che era una fase per esempio di ribasso anche del mercato azionario anche se come vi dicevo nell'ultimo video in realtà da un punto di vista di struttura ciclica non era anomala questa cosa infatti ragazzi se ancora non l'avete visto il video sui mercati finanziari è fondamentale l'ho pubblicato l'altro giorno vi lascio il link sulla mia testa andatelo a vedere perché è fondamentale per capire l'attuale situazione dei mercati finanziari tant'è vero che proprio Nasdaq 100 ha iniziato infatti una nuova fase vedete come questa fase di alzista che potrebbe anche essere coincidente addirittura con una fase di nuovo inizio del nuovo ciclo annuale quindi questa struttura però vedete questa fase ribassista questo trend ribassista che è in atto sostanzialmente su Nasdaq 100 da luglio agosto del 2023 potrebbe essere il significato anche di questa spuntone qui cioè del flusso record di capitali che si stanno spostando verso le obbligazioni e quindi uscire da questo mercato che non significa appunto crollare ma magari essere stazionario ritornare in un trend del genere senza riuscire magari a fare nuovi massimi e allo stesso tempo fluire sulle obbligazioni c'è però un paio di tasselli che non tornano ancora il rendimento dei titoli ventennali è ancora troppo alto ora non abbiamo assistito ad un'inversione di trend su questo rendimento quindi se vi ricordate il grafico che ho fatto vedere prima dovremmo assistere ad una inversione di trend di questo rendimento che deve iniziare un trend ribassista e la fuoriuscita appunto dai capitali azionali e questo è fondamentale qui ragazzi è il rendimento dei titoli quindi il rendimento scende ma i titoli salgono quindi funzionano così le obbligazioni all'opposto se qualcuno di voi vuole anche approfittare del mio corso sulle obbligazioni che ha spopolato vi lascio il link in descrizione e ovviamente sulla mia testa andatelo a vedere il corso su come fare e come operare sulle obbligazioni soprattutto titoli di Stato americani quindi questo andamento ancora non ha avuto inversioni di tendenza nemmeno di short term questo significa che prima secondo me dovremmo ancora vedere una lateralità prima di assistere ad un'eventuale inversione inversione che potrebbe avvenire in maniera forse più consistente da febbraio se questi numeri saranno poi effettivamente confermati quindi questi grafici hanno un impatto enorme perché hanno un impatto enorme anche su Bitcoin ragazzi perché Bitcoin a differenza dei titoli azionari nella fase attuale non ha subito una riduzione come quella che abbiamo visto da luglio del 2023 sul Nasdaq fino a questo punto cioè non siamo stati in un trend laterale ribassista bensì su Bitcoin abbiamo assistito da luglio ad una struttura particolare quindi questa barra di congestione e poi un trend al rialzo fino a questo punto a proposito proprio come dicevamo nell'ultimo video che ho parlato della famosa resistenza di Bitcoin 36.000 la resistenza vi ho detto non 35 infatti questo è successo ieri ha sbattuto contro la resistenza e oggi sta iniziando una fase di storno di cui parleremo nei prossimi giorni però l'atteggiamento di Bitcoin è stato notevolmente diverso rispetto a quello dei mercati azionari classici tanto è vero che se noi andiamo a guardare il grafico che mette in relazione Bitcoin con Nasdaq 100 vediamo che questo grafico effettivamente ha dal 28 di agosto un trend alla risalita questo è un grafico di spread dove mettiamo appunto di forza relativa dove parliamo dei mettiamo in relazione Bitcoin in questo caso contro Nasdaq è come se fosse Bitcoin prezzato in Nasdaq questa spuntone ha indicato che come da attese diciamo come noi stavamo attendendo l'atteggiamento dei capitali verso Bitcoin della criptovaluta in generale è cambiato, è mutato rispetto a quello dei mercati azionari tanto è vero che anche il tasso di correlazione di cui abbiamo tanto parlato è rientrato nella sua fascia di pricing intorno al 0,302 che sostanzialmente indica poca se non nessuna correlazione con il mercato azionario ed è molto significativo perché poi bisogna unire puntini vi dicevo questo è un video dove andiamo a guardare le briciole c'è stato anche un altro atteggiamento importante in questi mesi e cioè il cambiamento di trend per quanto riguarda il gold gold che da anche qui ragazzi più o meno ha avuto un atteggiamento laterale ribassista in questa fase e poi recupero in questo momento ora a differenza dell'evidente recupero di Bitcoin il gold ovviamente oscila di meno e anche di fronte a una delle sue maxi resistenze storiche che è questa zona qui quindi ci può stare 2.000 dollari per oncia ci può stare anche che la fase di alzista sia stata poco produttiva ma c'è anche un altro grafico da vedere che è il rapporto di forza relativa del gold verso Bitcoin anche questo storicamente molto importante ha fatto cicli molto evidenti che è destinato teoricamente a chiudersi in questa fascia indicando che il rapporto tra forza relativa del gold rispetto a Bitcoin potrebbe essere ancora positivo per la criptovaluta fino alla fine dell'anno questo è sostanzialmente quello che ci dice questo grafico ora unendo un po' tutti questi puntini abbiamo delle informazioni molto chiare è possibile che il 2024 oltre ai cambiamenti che noi abbiamo già verificato già visto possa designare per il mercato cripto e per Bitcoin anche un cambiamento epocale che riguarda il suo atteggiamento di bene rifugio o di asset rifugio direi più così rispetto a quello che è stato negli anni precedenti perché se effettivamente i mercati azionari non riusciranno nei prossimi mesi a recuperare i massimi storici e a riprendere un trend rialzista e se noi dovessimo assistere a una fuoriuscita da parte dei mercati azionari verso le obbligazioni quale ruolo avrà Bitcoin in questo processo perché se Bitcoin seguirà il ruolo di asset azionario quindi più legato all'asset azionario dovremmo assistere a una fase di staticità del re delle cripto nell'anno 2024 a prescindere dall'effetto ETF e dall'effetto halving che pur saranno importanti però dovremmo in un certo quel modo vedere smussati questi effetti a causa magari di questa tendenza degli istituzionali a volare verso lì di meno rischiosi da altro punto di vista ragazzi se invece Bitcoin dovesse sposare la logica del bene rifugio o comunque dell'asset completamente non correlato al mercato azionario potrebbe anche fungere da asset sì speculativo ma complementare alle obbligazioni in questo caso ai titoli di Stato e quindi potremmo avere in pratica una avvicinanza un arrivo diciamo delle liquidità sui titoli di Stato e anche una questione diciamo di satellite chiamiamolo così verso Bitcoin quindi potremmo assistere in pratica a un anno anomalo ma anche indicativo dove in pratica ci sarà un volo verso la parte core che sono i titoli obbligazionari quindi i bond in generale e poi una parte satellite che potrebbe essere Bitcoin facciamo di nuovo il disegno indicandolo meglio allora in pratica una cosa del genere confluenza dei volumi e delle liquidità verso il bond per una buona parte la parte più importante e anche lateralmente un satellite leggero creato da parte istituzionali di Bitcoin o di cripto dove appunto anche grazie alla questione dell'ETF si potrebbe andare a verificare uno scostamento quindi l'utilizzo delle criptovalute come boost in termini di strategia core satellite se non conoscete questa strategia andate ad approfondire ragazzi poi magari se vi interessa scrivetemelo nei commenti ne parliamo in un prossimo video e in questo caso quindi avremo un nuovo ruolo un nuovo cambiamento di Bitcoin nel 2024 che potrebbe fungere non tanto come bene rifugio ma come bene accostato o un bene rifugio direi più asset rifugio quindi un po' un asset uno spostamento verso gli asset free risk come le obbligazioni e accostate ad una Bitcoin all'interno di un portafoglio che può creare quell'effetto no? pump del nostro portafoglio quell'effetto miglioria in termini di rendimento appunto quello che fanno i satelliti diciamo nella strategia core satellite e questo è molto interessante perché sarebbe la prima volta nella storia che avviene una cosa del genere e attenzione non lascerebbe neanche a margine Bitcoin poi in un'eventuale ripresa dei mercati azionari perché comunque Bitcoin verrebbe utilizzato a prescindere come asset volatile e quindi al di là della questione azionaria sì azionaria no sarebbe un po' immunizzato da entrambi gli effetti è una teoria interessante parliamolo nei commenti di questo video che cosa ne pensate voi di un 2024 intriso di cambiamento dove questi grafici in effetti un po' qualche segnale ce lo stanno dando non è solo quindi il grafico delle obbligazioni che vi ripeto dobbiamo ancora attendere almeno un'inversione importante al di sotto di questo livello quindi le due medie mobili e deve scendere deve invertire appunto questo trend ma secondo me è ancora troppo presto altro grafico rilevantissimo per quanto riguarda bitcoin è quello contro il nasdaq cioè la sua forza relativa contro il nasdaq arrivato a un livello di resistenza importantissimo e che dobbiamo appunto verificare poi se riuscirà a breccarlo e poi riportarsi in questa zona a quel punto iniziando dei nuovi trend naturali e poi anche il grafico con il gold di bitcoin che è interessantissimo in questa fase discendente perché questo è gold contro bitcoin e dovrebbe toccare appunto un suo minimo nella zona appunto di dicembre allora tutto sembra essersi andare verso questa direzione sono casi randomici oppure piccole briciole di pane lasciate a pollicino per indicarci che un 2024 di cambiamento può essere alle porte cosa ne pensate lasciatemi un like come sempre ragazzi noi ci rivediamo nel prossimo video e ciao a tutti grazie a tutti